tutorial semplice quello di oggi come cancellare un contatto dalla rubrica telefonica di android molto semplice mi leggo direttamente sulla scritta contatti vado a selezionare a trovare il contatto che devo andare a cancellare eccolo qua per esempio questo as ci clicco sopra ci clicco sopra in alto a destra troverò i soliti tre puntini va bene cliccherò sopra i tre puntini scusatemi ho sbagliato clicco sopra i tre puntini eccolo qua mi appare la dicitura o elimina o condividi cliccherò su elimina eliminare il contatto il contatto per eliminato ok bene ho cancellato di fatto il telefono o meglio il contatto della rubrica che non mi interessa avere grazie a tutti da leandro il narratore italiano di youtube iscrivetevi commentate al prossimo video